Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Sulla FIPILI coda per lavori in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est. Per i mezzi che arrivano da Firenze coda in uscita a La Strassigna. Coda a tratti in direzione Firenze tra Empoli e Ginestra. Chiusa l'entrata di Montelupo Fiorentino in direzione mare. Sulla A1 in direzione Bologna è vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Rio Veggio e Aglio. In direzione Bologna si viaggia rallentati per traffico intenso tra Calenzano e il BV1 variante. Provenendo da Bologna coda in uscita a Firenze Sud. A Firenze in via Pisana nei pressi di via della casa si registrano rallentamenti in direzione centro città per incidente con riduzione di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!